Le spaccate dei quartieri Sant'Antonio e Matrice hanno aperto ieri sera le lunghe e fredde notti dei carri di Santa Lucia a Belpasso con una serata di grande spettacolo che è stata preceduta dall'inaugurazione da parte dell'amministrazione comunale della restaurata Via del Fercolo, antistante il prospetto sud della chiesa madre. Il tema del quartiere Sant'Antonio è stata la ricostruzione della città dopo l'eruzione del 1669 attraverso il racconto di vite di donne e uomini caparbi e volenterosi, persone di cultura e profonda fede che hanno nutrito la speranza nella resurrezione da cui hanno trovato la forza della ricostruzione. Il quartiere Matrice invece ha reso omaggio al genio di Leonardo da Vinci e alla creazione delle macchine sceniche da cui traggono origine i carri di Santa Lucia. Lo spettacolo proseguirà questa sera con i carri dei quartieri Purgatorio San Rocco e Borrello. All'alba di domani si arriverà dopo la lunga notte scandita ogni quarto d'ora dai colpi a cannone sparati nelle contrade periferiche del rintocchi del campanone di Santa Lucia, una delle più grandi campane d'Italia custodita nella torre campanaria della chiesa madre, visitabile in questi giorni. Tale usanza viene tramandata ancora ai giorni nostri e serviva anticamente per indicare nel buio il cammino e tanti pellegrini che ogni anno giungevano e giungono a bel passo da diverse parti della provincia etnea e della Sicilia. Il folklore è purificato dall'esteriorità come anima di un popolo. In questo, come ha sottolineato più volte il parroco della chiesa madre, Monsignor Giovanni Lanzafame, si traducono le speccate dei carri di Santa Lucia, che con la loro funzione catechetica, da stasera a bel passo, condurranno a domani, 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. La città, detto il sindaco Daniele Motta, si prepara alla festa di Santa Lucia e i carri sono il segno di devozione più tangibile dei quartieri cittadini alla nostra patrona. Le celebrazioni belpassesi, in onore di Santa Lucia, sono organizzate dal Comitato Cittadino, il Circolo Cittadino Santa Lucia e la Fondazione Carri di Santa Lucia, con il patrocino dell'amministrazione comunale e quest'anno anche dall'assessorato regionale all'identità siciliana e dell'ARS.